Il prossimo 25 maggio andremo dunque a rinnovare il Parlamento Europeo. Parlamento Europeo che per tutta l'Unione Europea, comprendendo i 28 Paesi, sarà composto da 751 membri, dei quali 73 italiani. Non si ha nell'opinione pubblica probabilmente una sensazione forte di rapporti che possono esserci e che dovrebbero esserci e che ci sono fra Parlamento Europeo e Parlamenti Nazionali. Dipende evidentemente dagli Stati membri, dalla sensibilità dei vari Parlamenti Nazionali. Non abbiamo la sensazione che in Italia vi sia un forte dibattito per quanto riguarda questi rapporti. Invece è da sottolineare che vi sono norme molto precise che prevedono il coinvolgimento dei Parlamenti Nazionali anche nel processo di adozione delle varie iniziative legislative. La Commissione Europea promuove ad esempio molti documenti. Inoltre, iniziative legislative promosse dalla Commissione per essere poi approvate congiuntamente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea, cioè il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e il Consiglio dei Ministri, si compone di un ministro per ogni governo nazionale. Questi documenti dovrebbero essere dibattuti nei Parlamenti Nazionali. Purtroppo i dibattiti non sono molto approfonditi, spesse volte, e questo evidentemente è un fatto negativo.